che era livello nono. Lavoravo all'edilizia scolastica. Nella mia stanza c'era un collega che era livello nono, mentre io ero livello settimo. Una mattina il collega chiude a chiave la porta della stanza, si mette in tasca la chiave e dice che mi ama e deve fare l'amore con me. Io mi rifiuto e lui mi dice guardami, guardami, stai bene attenta e mi lisce il mento con un'aria di possesso. Io sono costretta a dirgli se non apri la stanza mi metto a gridare. Perché? Commento. Perché si vive un basso ambiente evolutivo per fare le esperienze dolorose che l'ambiente comporta.